I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi e della squadra mobile nell'ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti hanno individuato una coltivazione indoor nel pieno centro cittadino di Niscemi. L'equipaggio di una volante del locale commissariato nel corso dei servizi di controllo del territorio ha avvertito un forte odore di marijuana provenire da una specifica zona della città. Per affinare le ricerche è stato richiesto l'intervento dei poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile di Caltanissetta. Per questi ultimi non è stato difficile individuare il luogo da dove proveniva l'odore. L'attività di appostamento dei poliziotti ha infatti permesso di notare un anziano che dopo essersi guardato intorno con fare circospetto ha fatto ingresso all'interno di uno stabile del centro storico. L'anziano è stato colto in flagranza mentre curava le piante di marijuana mediante un impianto per la coltivazione che denota una spiccata professionalità. Il sistema di coltivazione era dotato di un impianto di irrigazione, illuminazione, areazione e ventilazione altamente professionale. L'illuminazione artificiale, fondamentale per la crescita delle piante, era assicurata da fari molto potenti con elevato assorbimento di energia elettrica. I tecnici dell'Enel, intervenuti presso l'immobile, hanno accertato la manomissione dell'impianto di distribuzione stimando un prelevamento furtivo della rete di circa 10.000 euro mensili. Per questi motivi all'anziano verrà contestato anche il furto di energia elettrica.